Entro la giornata di giovedì 24 ottobre, la colonna mobile del corpo AIB Piemonte rientrerà in regione dopo giorni di intenso lavoro nel comune di Valsamoggia, Bologna, al fianco della colonna mobile regionale di protezione civile. I volontari sono stati impegnati nelle operazioni di lavaggio di strade. Grazie a tutti.